Come so, Pinto, la Fincoc lancia una campagna, lo sai quanto è importante? Perché? Lanciamo questa campagna, lo sai quanto è importante? Perché dobbiamo spiegare ai cittadini quanto è importante la ricerca. Dobbiamo dire perché facciamo ricerca, quanto la ricerca dà ai malati, quanto la ricerca ha migliorato le cure e perché i pazienti devono essere partecipi con noi e partecipare agli studi clinici. Perché partecipare a uno studio clinico può dare da una parte la possibilità a quel paziente di avere la somministrazione di un farmaco, non ancora un convergio, di un farmaco innovativo che magari avremo a disposizione tra anni e dall'altra permettere che quel farmaco, se lo studio dei risultati attesi, potrà essere dato con risultati positivi a tanti tanti altri malati. Quindi FICOG parte con questa campagna per dire che la ricerca è importante per migliorare l'oncologia ed è importante che i pazienti partecipano alla ricerca.